Musica Buongiorno a tutti, sono Carlo Boccadoro, direttore artistico dei concerti della scuola normale di Pisa Continuiamo la nostra resegna dove io da casa vi consiglio dei dischi interessanti da sentire in attesa che si aprano i teatri Lo sappiamo che riapriranno in giugno ma non sappiamo bene ancora come Quindi intanto stiamo qua, stiamo attenti alle regole e ascoltiamo buona musica Questa volta vi propongo un disco che è uscito da poco per la Sonic Classica Un disco veramente strano perché porta il nome di un grande compositore del secondo novecento Però il disco non contiene la sua musica, cioè sì, la contiene ma allo stesso tempo non la contiene Che vuol dire? È un disco che si chiama Transformation e il nome è quello di Luciano Berio Ma Luciano Berio, oltre a aver scritto tantissima musica sua bellissima Ha orchestrato e strumentato e rifatto e ripensato la musica di tantissime altre autori del passato Lui non era uno di quei rappresentanti dell'avanguardia come Boulez che diceva che bisognava mettere le bombe sotto i teatri d'opera Che la tradizione andava cancellata o non era neanche un iconoclasta come Storkhausen che proprio ripudiavano il passato Volevano costruire tutto ex novo Berio, sempre detto, come anche Bruno Moderna Che non si poteva fare niente di nuovo se non si conosceva e non si amava e non si esplorava anche il passato Così nel corso della sua carriera ha orchestrato e ripensato Ma non sono mai delle semplici orchestrazioni, sono dei ripensamenti La musica è quella, a volte viene un po' più cambiata, a volte no, è una semplice orchestrazione ma però è sua, inconfondibile Ed era un suo modo di commentare, lui diceva, di parlare col passato La cosa curiosa di questo disco è che per la prima volta oltre a famose orchestrazioni come quella di Boccherini o di Mahler Sono presenti anche quelle delle canzoni dei Beatles Che noi negli anni 60 fu il primo compositore, chiamiamolo Colto, a prendere sul serio i Beatles Ne fece anche un'analisi di alcuni brani del disco Revolver sulla nuova rivista musicale italiana Che era la rivista di musicologia più togata di quegli anni, c'è un grande scandalo Soprattutto nel periodo in cui era sposato con Katie Balbaie, un grande soprano Che era una grande appassionata dei Beatles Lui comunque li ha ascoltati poi tutta la vita Se andavi con lui in macchina aveva i nastri delle canzoni dei Beatles Ascoltava anche Simon & Garfunkel e tanti altri cantanti in musica Non erano di quei compositori chiusi nella sua torre lassù Però siccome lui quando ascoltava qualcosa ci doveva mettere le mani Ad esempio qui in questo disco non ci sono Ma ha fatto delle meraviglie di orchestrazione dell'opera dei soldi di Kurt Weill Poi tutti conoscono questo brano che si chiama Rendering Dove lui ha preso i frammenti della decima sinfona di Schubert E li ha orchestrati e poi ha immaginato gli spazi vuoti Fra un frammento di Schubert e l'altro Ma invece qui un programma un po' più organico Intanto è l'orchestra di Basilea, un'orchestra eccezionale Diretta da un direttore bravissimo che in Italia si vede poco Perché è molto presente sul podio delle maggiori istituzioni musicali del mondo Che si chiama Ivor Bolton E allora il disco inizia con l'ultima orchestrazione che ha fatto Berio prima di morire Che sono dei contrapunto 19 dell'arte della fuga di Bach Faceva parte di un grande progetto dove lui aveva chiesto a vari compositori Di orchestrare delle parti dell'arte della fuga E il finale se l'era riservato per se stesso Ed è uno del penultimo lavoro che ha scritto Perché poi ha scritto Stanze, Berberita e l'orchestra e poi è morto Ed è un lavoro molto bizzarro perché ovviamente le note sono quelle di Bach I timbri che lui trova, il modo di mischiare i colori è molto malinconico È un pezzo proprio autunnale, si vede che è un pezzo della fine Scritto verso la fine della sua vita Quindi le atmosfere molto meditative, molto tranquille Non ci sono mai gesti retorici È un Bach visto dall'alto Poi ci sono le meravigliose orchestrazioni delle sette canzoni popolari Zetmaniola di Manuel De Faglia Che lui fece proprio per Katie Barberian E che poi furono interpretate anche da grandissimi mezzosoprani Come Teresa Berganza ad esempio E incise però da un uomo José Carreras Invece in questo caso Abbiamo un mezzosoprano femminile Per come l'aveva pensate Berio Adesso leggiamo sul libretto Chi è Scusate ma non so tutto memoria Ed è Sofia Burgos È la voce femminile Queste sono delle bellissime canzoni popolari Che De Faglia aveva preso e fatto per pianoforte voce È lui l'orchestra Un grande orchestra Mettendoci però poi delle parti anche di ritmi liberi Suoi che arrivano dalla sua esperienza Il compositorio d'avanguardia Però il risultato suona come De Faglia Ma un De Faglia sfolgorante Brillantissima Un'orchestrazione super spettacolare Infatti questo brano ha avuto E ha tuttora un grande successo Lo eseguono dappertutto Poi ci sono questi due cicli grandi Dei leader di Mahler Il Siss Zerg Fröhlieder del 1892 Che lui ha orchestrato nell'87 E poi il Fünf Fröhlieder Che ha fatto per l'orchestra del Toscanino Di Lamina Romagna Sono bellissimi E lui invece qui non cerca di cambiare Il mondo di Mahler Si avvicina molto Per lui era una specie di camaleonte Si orchestrava Schubert Entrava nel suono schubertiano Se entra la faccia De Faglia Riveniva fuori il suono novecentesco Qui orchestra Mahler E si ritorna al clima ottocentesco Cioè conosceva talmente bene La produzione di questi autori Era in grado di mettersi nei loro abiti Queste orchestrazioni di Mahler Si distinguono però Per essere estremamente fedeli Cioè lui colora Questi leader per voce piano Ma li colora in senso mahleriano Cioè non cerca di stravolgerli Di cambiare Di portarli Come a volte ha fatto Con altri autori In un'altra dimensione No Lui amava moltissimo Ma era un compositore Per il quale lui andava pazzo E quindi ha fornito insomma a questi leader Che sarebbero rimasti in un ambito più casalingo Essendo solo per voce piano Una bestia orchestrale molto sobria Mi ricordo che c'era già un disco stupendo Con Berio che dirigeva E Thomas Hampson che cantava Ma anche Benjamin Apple Questo baritono Presente in questa registrazione È bravissimo Quindi questi sono Sono dei leader stupendi ovviamente E orchestrati Veramente in modo degno di Mahler Io credo che se Mahler li avesse ascoltati Avrebbe applaudito anche lui Poi c'è una delle cose più strane Che ha fatto Berio Che nell'86 ha orchestrato Per la sonata in Mi bemole maggiore di Brahms Per Clariato e Pianoforte Quella che fanno tutti gli studenti E che avete sentito un miliardo di volte Che si fa anche con la viola Sono le due sonate Che Brahms schisse alla fine della sua vita Per questo grande clarinettista Richard Muyfield Lui non voleva scrivere più Brahms aveva già scritto Il suo editore Simrock Dicendo di non aspettarsi più lavori da lui Che era stanco Che era vecchio Che ormai aveva già dato Che non voleva più scrivere E poi dopo aver ascoltato Questo straordinario clarinettista Muyfield Il suono del clarinetto di questo uomo Gli ha entrato nell'anima E gli ha fatto venire Delle ispirazioni bellissime Alla fine della sua vita Ha scritto questi capolavori assoluti La quintetta per Clariato Archie Che abbiamo ascoltato anche Nella nostra stagione Oppure il trio per Clariato e Pianoforte E le due sonate per Clariato e Pianoforte Quindi musica stupenda Musica inarrivabile Tutta dovuta all'abbirazione Per questo strumentista E non so come mai Credo l'ha fatta Credo su commissione Della Los Angeles Ha deciso di orchestrare Per grande orchestra Questa sonata Senza cambiarla Da solo orchestrata Però questa volta Non ha fatto un'orchestrazione Brahmsiana Perché è un'orchestra molto grande È un'orchestra quasi straussiana Il che rende un po' difficile Quando si sente in concerto Trovare gli equilibri giusti Perché il clarinetto Non sia sommerso dall'orchestra Ma naturalmente In un disco Non ci sono problemi Di questo tipo È molto curioso Perché in genere Quando Berio Faceva queste orchestrazioni Ci metteva dentro Delle citazioni Di altre cose Ad esempio In rendering Orchestra È vero La decima sinfonia di Schubert Ma ci mette dentro Citazioni di altri tri Di altri pezzi schubertiani C'è una citazione A Mendelssohn Cioè era anche un gioco divertente Scopri L'allusione E questi lavori Tranne in De Falle Appunto Dove ci sono Delle modifiche C'è una grandissima Rispetto Dell'originale In questo caso E il suono Che viene fuori Molto particolare E c'è anche Un pezzo Invece Che è un pezzo suo Oggettivamente Anche se non è fatto Con musica sua Ma è un pezzo Fra i più famosi Suoi Che si chiama Quattro versioni originali Della ritirata notturna Di Madrid Di Luigi Boccherini Sovrapposte E trascritte Per orchestra Cosa vuol dire Sovrapposte Vuol dire che Questo brano Che è un famoso brano Per chitarra E quartetto d'archi Esiste in più versioni E un'inversione È leggermente Differente Da quell'altra C'è qualche piccola Variante Qualche cambio Armonico Diverso Lui non solo L'ha orchestrata Questo è un pezzo Che lui ha scritto Negli anni 70 A metà degli anni 70 Su commissione del teatro Alla Scala Che aveva bisogno Di un brano allegro Spettacolare Per la sua tournée Negli Stati Uniti Quindi è un brano breve Dura Neanche sette minuti E questo tema E lui immagina Nella sua testa Melio Che questi musicisti Che suonano Come se fosse una banda Di musicisti ambulanti Che parte da lontano Infatti l'inizio del brano È pianissimo Si sentono questi tamburi Che fanno Questo ritmo di marcia Pianissimo Piano piano Entrano i flauti Poi l'arpe Pianissimo E man mano L'orchestra È una specie di Bolero di Ravel Cioè il tema È sempre quello Ma ogni volta Viene orchestrato Con sempre più gente E l'idea è proprio Quella di un'immagine Che parte da lontano E arriva a un certo punto Chiaramente i musicisti Sono arrivati in mezzo Alla piazza E quindi Suoni festosi Suona tutto volume E poi se ne vanno E quindi di nuovo L'orchestrazione Comincia a diminuire E diminuire E diminuire E sempre meno strumenti E sempre meno Fino a che alla fine Si ritorna con gli stessi tamburi Con cui avevamo sentito All'inizio È un brano bellissimo Anche questo Straeseguito Ancora oggi Veramente di grandissimo effetto È proprio un brano Di occasione Se vogliamo Le famose commissioni Di occasione Capitano nella vita Dei compositori Però realizzata Con una maestria Orchestrale Un'intelligenza Straordinaria Quindi diciamo Il CD1 È dedicato Alle parti classiche E sul CD2 Ci sono questi Beatles songs Che sono stati Arrangiati da lui Nel 67 Nel 67 I Beatles Erano a metà Del loro percorso Quando lui Ha orchestrato Questi dischi Non c'era ancora Sgt. Pepper Tutti i dischi Che sono seguiti dopo Quindi lui Orchestra Canzoni che sono presenti Sui primi album Dei Beatles Hard Day's Night In particolare Quindi sono Michelle Che è presente In due versioni Con due orchestrazioni Diverse Ticket to Ride E Yesterday Quindi canzoni Che ormai Sono dei classici Del novecento Queste orchestrazioni Sempre per motivi Vari legati Ai Beatles Sempre sono cose Molto complicate Sono praticamente Impossibili da sentire In concerto Non ci sono le partiture Per decenni Si sapeva di queste Orchestrazioni Ma non davano Il permesso di farle Eccetera Adesso probabilmente Dopo la sua scomparsa Con l'archivio Berio Nella fondazione Saga di Basilea Probabilmente Probabilmente si sono messi D'accordo E sono diventate Di nuovo Disponibili Per l'esecuzione Quindi sono state Anche registrate Per la prima volta È molto buffo Sentire queste Organizzazioni Dei Beatles Perché lui Ha deciso Invece di trasportarle Nel Settecento Quindi hanno Clavicembalo Hanno un sacco Di figure barocche Sembra di sentire I concerti Vendelburghesi Di Bach Ma con la voce Che canta Sulle canzoni Di Beatles Un'idea assolutamente Surreale Molto ironica Molto divertente Forse perché Poi i Beatles Faranno La stessa cosa Poco dopo Nel senso che Paul McCartney Proprio nel 67 Ascolta in tv Nei concerti notturni Della BBC Il concerto Vendelburghese Di Bach Quello con le piccole Trombe piccole Rimane molto colpito Da questo suono E poi quando vanno A incidere La famosa canzone Penny Lane Ci mette un suono Appunto Quel trombino Barocco E quindi Forse si riferiva Anche a questo Chi lo sa Non lo so È un omaggio Barocco ai Beatles È molto straniante Ovviamente Perché sentire I Beatles Con tutti questi Contrapunti Con questo sound Di strumenti Quasi antichi Intorno È molto Molto spiazzante Ma anche Molto divertente È una curiosità In più Ma vale la pena Di ascoltare Tutte queste Bellissime Orchestrazioni Perché la musica È bellissima È familiare Allo stesso tempo Nuova Si sente La bravura Straordinaria Di Iberio Ma si sente Anche ovviamente La personalità Degli autori Con cui lui decide Di entrare In dialogo In conversazione Sono due cd Ma in uno Ci sono solo Le quattro canzoni Dei beatles Un cd Che dura Dieci minuti Quindi una specie Di cd Omaggio Infatti Il disco Costa come Un disco Solo Quindi Ivor Bolton Con Sinfonia Orchestra Basilea Transformation Che è un titolo Esatto Per bere Va benissimo Perché le sue Non sono solo Orchestrazioni Ma sono appunto Trasformazioni Di pensiero Un disco Piacevolissimo Anche se non Amate la musica Contemporanea E comunque Credo che sarà Un buon modo Per avvicinarvi A questo grande Musicista Del secondo novecento Io vi do appuntamento Al nostro prossimo disco Mi raccomando Stiamo il più possibile A casa Proprio se non dobbiamo uscire Perché questo virus È ancora in giro parecchio E vi do appuntamento Alla prossima volta Buona giornata a tutti Grazie a tutti